Adesso ci dobbiamo tuffare in un altro momento importante. L'acqua dov'è? L'acqua dov'è? Qual è acqua? Ci dobbiamo tuffare. Ma tu non vuoi tuffarti perché tu non avrai... Non correre, non correre, perché vedi che ci seguono. Se no corriamo, corriamo. Non c'è l'acqua. Allora, perché adesso ci tuffiamo, anzi ci immergiamo in quelle erbe che sembrano così. Dicono ma queste erbe, che ci dobbiamo fare con queste erbe? Non mi impallare Gigi, si dice al cinema. No, no, mai, mai, mai. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Ci immergiamo con il nostro ospite nel mondo dell'erbe che fanno bene alla nostra salute. Quindi, Ciro Vestita, grazie per essere con noi. Di che cosa parliamo prima? Parliamo di un frutto che qui non c'è, per colpa mia, che sono i mirtilli. I mirtilli che io adoro. Esatto, fai bene ad adorarli perché sono eccezionali, sono nutraceutici, alimenti che nutrono e curano nello stesso tempo. Un decotto di mirtillo, quindi una caraffa dove si è stato fatto un decotto, di bacche di mirtillo. Ma mirtillo fresco? Anche essiccato, va benissimo. Anche essiccato, fresco. Che cosa facciamo? Allora, innanzitutto protegge la retina oculare. Spezza la fame, quindi noi tutti siamo a dieta, quindi ci toglie la fame. Ma soprattutto è una potentissima arma contro le patologie delle vie urinarie. Ecco. Soprattutto le prostatiti, ma soprattutto le scistiti nella donna. Questa è la storia che ce l'insegna. Negli anni 50, nel nord Europa, per proteggere le giovani orse dei bracconieri, furono creati dei rifugi dove queste orse potevano vivere. Ma ahimè, quando si svegliavano queste giovani orse, morivano tutte di scistiti violentissime. Ecco. Ma allo stato brado non succedeva. Andarono a vedere perché allo stato brado non succedeva. Ci si accorse che le orse allo stato brado mangiavano quintali a risveglio da letargo di foglie di mirtillo. Da qui si è capito che è un'arma contro le scistiti. È stato studiato. Chi fa un uso corretto di questa pianta probabilmente non avrà più scistiti. Ovviamente si tratta di patologie piccole. E poi non abbiamo problemi di indice glicemico, eccetera, perché il mirtillo... Il mirtillo, poi basta una manciatina. È una talmente potente come pianta medicale che basta una piccola manciatina in un litro e mezzo di acqua da bere assorsi. Però qualsiasi terapia va fatta sotto il medico. Esatto. E allora... Qualsiasi ora giornata con il controllo del medico curante. Queste invece possono... Certo. Sono erbe eccezionate. Questo è il tarassaco. Allora, Ciro, dobbiamo... Il tarassaco adesso lo spieghiamo. Intanto devo aprire il collegamento con Susanna Cutini, docente di Cultura e Politiche Alimentari dell'Università San Raffaele di Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buon piacere. Allora, la domanda che mi viene proprio da farle subito. Quanto è profondo il legame tra benessere e natura, tra erbe e farmacopea? Allora, guardi, è un legame veramente ancestrale. Noi possiamo dire che la raccolta delle erbe spontanee, dei frutti spontanei, è stato il primo atto culturale dell'essere umano. Voi pensate, 200.000 anni fa, siamo nella preistoria, dove effettivamente la ricerca scientifica non esisteva, dove il linguaggio stesso era poco sviluppato e già gli uomini e le donne raccoglitori andavano a raccogliere questi frutti per sfamarsi e li faceva stare bene, quindi avevano una conoscenza ancestrale. E poi, facendo salti temporali, già in epoca imperiale romana esistevano testi con più di 500 erbe come rimedio e consigli. Ma diciamo che la farmacopea, come ha detto lei, si è sviluppata nel Medioevo, grazie ai monaci, questi monasteri, queste cattedrali, dove effettivamente il pestello la faceva da padrona. E hanno proprio dato le basi della farmacopea grazie a un tesoro che ci hanno lasciato, che è quello dei taccuini sanitatis. Bene. Allora, adesso con Ciro vestita, io vorrei parlare di quelle erbe, di quegli infusi, che d'estate ci fanno bene, ci fanno sgonfiare, ci fanno drenare. Esatto. Allora, in primis il terassico. Ci fanno anche un po' di maigrire. Allora, sono erbe che spezzano la fame, perché noi dietologi siamo tutti bravi a dare la dieta da dietro alla scrivania. Poi il paziente va a casa e dalla fame si mangia l'uva, dalla carta da parati. Quindi, per evitare questo, ci possono essere degli infusi, dei decotti, che non soltanto fanno bene alla salute, ma anche spezzano la fame. In più, il terassico, dente di leone, i francesi lo chiamano piss and lee, scusate il termine, vuol dire piscialletto. Cosa vuol dire? È talmente diuretica questa pianta, che se tu bevi un decotto di questa pianta alle 18 del pomeriggio, la mattina sei due chili meno, semplicemente perché hai perso liquidi. Dopo le 18? Allora, ma le piante medicali hanno anche più compiti. Ad esempio, il terassico abbassa fortemente la colesterolemia, protegge il fegato e quindi può soltanto... Protegge il fegato? Lo consiglia per tutti, giovani, meno giovani, più uomini, donne. Come si prepara? La consiglia a tutti, Ciro? Ma, Luca, tutte le terapie botaniche, tutte le terapie con erbe vanno fatte sotto il controllo del medico. Ci sono delle controindicazioni. In caso, ad esempio, di calcolosi al fegato, non vanno fatte. Questa è la pianta delle meraviglie, la melissa. Calmante, la crearono... L'alcolato di melissa fu creato dai carmelitani scalzi, sotto l'input del re sole, che non ne poteva più di questa gente che si sveniva continuamente. Fu creato questo alcolato... Cioè, di gente che sveniva perché era agitata? Perché era la corte del re sole, non c'era niente da fare, si ammigliava, sveniva. Allora, cosa facevo? Questo alcolato di melissa veniva messo sotto il naso, sembrava una butada, ma in effetti gli studi ci hanno detto che le sostanze aromatiche volatili di questa pianta riescono veramente a rianimare e a farci stare bene. Ma la melissa ha un altro compito, quello cioè di regolarizzare la flora batterica intestinale che attualmente è considerato il nostro esercito personale. È molto importante la melissa, ricordiamocelo. Dottoressa, professoressa, diceva che c'è una riscoperta di questi antichi saperi officinali legati proprio ad erbe e piante, no? Eh sì, perché grazie anche alla comunicazione del dottore Cirovestita, ma di tanti, cioè, c'è sempre, ci siamo curati per millenni con le erbe, quindi sono stati riscoperti in un certo qual modo quei valori che, come ha detto il dottore Cirovestita, mai fare da te, perché le erbe possono essere anche molto genose. Ma hanno dato vita a un interesse, no? Le persone si tendono ad avvicinare sempre di più alla natura e di conseguenza è nata questa parola, il foraging, che è una forma di andare a raccogliere le erbe nel spontaneo, nei boschi o nelle campagne, ma accompagnati con un esperto. Eh sì, questo è importante. Mai fai da te. Dobbiamo riconoscere quello che andiamo a raccogliere e che la natura ci regala. Un episodio curioso, velocissimi, velocissimi, Ciro. I potenti vengono fuori proprio dalle piante americane. Bisogna fare attenzione. Tutte queste tisane ne fa uso? Certo che sì, cioè, ti fanno solo bene, ti fanno... Io le amo, io sono attrappola a questo mondo delle tisane. Per esempio la betulla ti fa urinare e ti abbassa il colesterolo. Grazie professorezza, grazie Cirovestita, vi aspetto ancora per parlare di questo mondo che a me affascina e sono sicura anche chi ci ascolta a casa. Grazie. Grazie.